settembre in spiaggia il reperimento dei bagnini di salvataggio frena il prolungamento dell'estate pesaro controcorrente aumento di natalità all'ospedale san salvatore ponte sul foglia l'assessore pozzi garantisce sarà pronto entro la fine dell'anno dalla festa democratica di valle foglia arriva la carica alla prossima sfida alle regionali assolto dall'accusa di furto di opere d'arte del duomo di milano la vicenda di un gallerista pesarese benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 4 settembre apriamo questa edizione parlando di turismo e in particolare delle spiagge pesaresi dove le buone intenzioni di allungare la stagione balneare si scontrano con norme regolamentari nazionali e rendono il tutto molto complicato vediamo da un lato ci sono i proclami di destagionalizzazione auspicati da tempo da albergatori associazioni di categoria e dallo stesso sindaco andrea biancani che vorrebbe prolungare la stagione balneare a pesaro fino a fine settembre dall'altro lato c'è però una realtà regolamentare e contrattuale che suggerisce come i prossimi due saranno gli ultimi weekend sulle spiagge pesaresi con ombrelloni e lettini dunque con buona pace di temperature che dovrebbero rimanere alte risulta difficile andare oltre metà settembre dopo che la nuova ordinanza dell'autorità marittima ha previsto l'obbligo di disporre del bagnino di salvataggio in spiaggia anche il dopo il 9 settembre per consentire di tenere aperti gli ombrelloni salvo casi singoli dunque per le concessioni risulterà dunque molto complicato tenere aperti gli stabilimenti balneari oltre il 15 settembre quasi impossibile infatti reperire in maniera organica bagnini di salvataggio last minute in questi giorni si stanno però moltiplicando le riunioni dei rispettivi consorzi così come la politica sta provando a studiare una mediazione secondo i bagnini resta però l'incongruenza di un allungamento della stagione impossibile da pianificare a cavallo di agosto e settembre ed ora cambiamo argomento dopo un 2023 di ripartenza per il punto nascite dell'ospedale san salvatore il reparto di ostetricia pesarese registra ora anche un aumento dei parti in controtendenza al diffuso calo di natalità dopo la prolungata chiusura in tempo di pandemia e il ripristino del punto nascite da inizio 2023 riprendono vigore pure i numeri della natalità di ostetricia e ginecologia dell'ospedale san salvatore di pesaro i dati attuali registrano infatti un aumento di oltre il 6 per cento del numero dei parti rispetto all'anno precedente nonostante il trend nazionale e regionale di natalità in riduzione a pesaro si sta dunque assistendo ad un proficuo processo di ripartenza per il riparto diretto dal professor claudio cicoli che sottolinea come negli ultimi mesi si siano ricevuti innesti di unità mediche di supporto che prima mancavano innesti fondamentali per permettere una nuova organizzazione che a breve consentirà la presa in carico della donna in gravidanza garantendo a tutte le tre ecografie ostetriche previste nei tre trimestri tre punti di forza del reparto resta quello della possibilità di effettuare il parto in acqua grazie alla vasca realizzata a pesaro da oltre 20 anni un consolidamento del reparto del san salvatore che presto avrà ulteriori benefici dal nuovo percorso di integrazione istituito fra ospedale e consultori del territorio continuiamo a restare in tema di natalità perché questa mattina nello stesso ospedale san salvatore si è completato un espianto multiplo di organi e tessuti da un paziente sessantenne deceduto la direzione dell'ospedale pesarese sottolinea l'estremo gesto di generosità dell'uomo residente nel pesarese ed iscritto all'aido associazione italiana donazione organi in un intervento durato circa 24 ore sono risultati idonei al trapianto fegato reni vasi sanguigni e corne che l'equip pesarese ha potuto donare a beneficiari del policlinico di genova dell'ospedale universitario di udine e della banca delle corne e delle marche ed ora parliamo di opere pubbliche a pesaro oggi ci soffermiamo in modo particolare sul ponte ciclo pedonale sul foglia infrastruttura che ha accumulato dei ritardi ma sulla quale l'assessore riccardo pozzi intervistato ai nostri microfoni garantisce il completamento entro la fine dell'anno a seguito dell'incontro avvenuto tra l'amministrazione comunale di pesaro e la ditta incaricata dei lavori del ponte ciclo pedonale del foglia quest'ultima è stata sollecitata nell'accelerare i lavori affinché risultino completati entro la fine dell'anno portando così ad attuare la fase di gettata anche nel periodo estivo appena concluso per poi procedere con il completare i raccordi nei mesi che seguiranno stiamo parlando innanzitutto di un intervento molto importante che andrà a rivoluzionare quella che è la mobilità ciclabile pedonale della città l'intervento da 4 milioni è un intervento complesso è partito ormai diversi mesi fa e ha riscontrato non possiamo negarlo diverse difficoltà nel corso di questi mesi da una parte l'aumento dei costi dell'acciaio in cui è realizzato il ponte dall'altra parte anche le alluvioni che hanno visto nella fase di esecuzione di lavori dei ritardi per andare a rirealizzare l'argine e mettere in sicurezza il foglia durante i periodi più difficili dell'autunno scorso e questo ha indubbiamente portato a degli slittamenti rispetto a quello che è un cronoprogramma nel corso di quest'estate insieme all'ufficio tecnico del comune insieme alla direzione lavori del cantiere ci siamo anche rincontrati per cercare di capire insieme come affrontare questi ostacoli queste problematiche che ci hanno portato a questo slittamento nel cantiere abbiamo ci siamo attivati per ripristinare intanto l'apertura della pista ciclabile in particolare durante i mesi estivi e quindi in qualche modo consentire a chi utilizza la ciclabile solitamente esistente solitamente di poterla continuare a percorrere in sicurezza e il cronoprogramma aggiornato che ci ha mandato la ditta prevede la conclusione dei lavori alla fine di quest'anno è un intervento come dicevo da 4 milioni di euro che consentirà da quasi 4 milioni di euro che consentirà ai quartieri a nord di Pesaro di poter essere collegati a piedi in bicicletta o anche ai mezzi di soccorso di poterli collegare alla stazione del treno e al centro della città in concomitanza con la festa dell'unità di Pesaro si è chiusa anche la festa democratica di Vallefoglia che ha fatto il pieno di partecipazione fra simpatizzanti e grandi nomi del mondo politico non ha sofferto la concomitanza con la festa regionale dell'unità tenutasi a Pesaro anzi la festa democratica di Vallefoglia ha vissuto una proficua sinergia interscambio di ospiti con Baia Flaminia registrando 5 giorni di pienone con 4 mila presenze ad alternarsi fra dibattiti, buon cibo e spettacoli allestiti magistralmente dal grande impegno dei tanti volontari coinvolti Il Partito Democratico a Vallefoglia è una comunità viva, vivace, radicata e pronta alle prossime sfide a partire dalle regionali del prossimo anno come abbiamo detto erano i risultati di giugno quando siamo tornati primo partito all'europea contribuendo anche in maniera importante all'elezione di Matteo Ricci al Parlamento Europeo e la vittoria larga con un grandissimo consenso vicino al 59% ci ha sostanzialmente imposto di organizzare un grandissimo evento popolare che chiamasse raccolta centinaia e centinaia di cittadini a prescindere dalle appartenenze territoriali e dalle appartenenze politiche Tante le personalità politiche che hanno fatto tappa al Parco Volponi di Montecchio da Stefano Bonaccini e l'area Cucchi fino alla segretaria regionale DEM Chantal Bonprezzi Abbiamo avuto tre europarlamentari, quattro parlamentari nazionali diversi sindaci importanti anche del nostro territorio e non solo Michela Vitri come consigliera regionale, esponente della sanità, dell'ambientalismo dei movimenti per la pace e per la lotta dei diritti delle donne Quindi veramente i movimenti del sindacato, quindi è stata una festa dove abbiamo messo insieme diverse anime con le quali poi vogliamo costruire l'alternativa sia a livello nazionale al governo Meloni sia al governo Acquaroli in vista delle regionali del prossimo anno C'è una partita delle regionali, si vota in Emilia Romagna, si vota in Umbria si vota anche in Liguria, abbiamo buone chance per avere successo anche forse nelle due regioni che sono governate al centro-destra cioè l'Umbria e la Liguria penso che ci sia una buona premessa anche per ritornare a governare le Marche e diciamo ragionare insieme sul futuro delle Marche è stata una delle occasioni ritrovare la compattezza del Partito Democratico che è il motore di una coalizione democratica di centro-sinistra più larga è fondamentale, quindi siamo pronti a giocare le prossime partite e a far notare le differenze perché Vallefoglia ha scuole di grandissima qualità piste ciclopedonali, municipio nuovo, due teatri dedichiamo decine e decine di ore, 10-15 ore al giorno per il benessere della nostra città, della nostra comunità, dei nostri cittadini che li ringraziamo per una grandissima partecipazione oltre ai nostri militanti a questa bellissima festa di 5 giorni e adesso nel prossimo servizio andiamo a conoscere la storia di un antiquario pesarese che si è dovuto difendere dall'accusa di furto di un'opera d'arte appartenente al Duomo di Milano dopo l'assoluzione ha voluto raccontare ai nostri microfoni questa surreale vicenda è stata una storia che ha fatto il giro dell'Italia e non solo quella che ha riguardato un prestigioso negozio d'antiquariato di Pesaro ed il suo proprietario accusato di aver sottratto un gargoyle dal Duomo di Milano un racconto smentito però dalla giustizia e che finalmente ha reso pace all'antiquario assolto da tutte le accuse Ceroni di fatto è abituato a ricercare prodotti speciali per clienti speciali ma non di sicura rubarli come testimonia anche il premio Rotondi e le numerose opere da lui salvate semplicemente dai fatti che sono poi risultati agli atti durante il processo in quanto questo oggetto di 350 kg un gargoyle appunto una statua in marmo che stava sul tetto del Duomo di Milano anzi è il primo oggetto che è stato issato nel 1404 nella cima del Duomo di Milano che era accaduto durante i bombardamenti del 46 ed era spezzato a terra diciamo questi oggetti che venivano accantonati a seguito dei bombardamenti sono stati diciamo illecitamente ceduti nel tempo a chi? a parte il politico che lo chiedeva, a parte il donatore ma anche alle imprese che riparavano, che finanziavano, che davano delle contropartite non solo religiose ma anche di fatti quindi questo oggetto era stato regolarmente ceduto con i documenti che si sono trovati nell'archivia dell'opera del Duomo di Milano era stato ceduto all'ingegner Torno di Milano i cui nipoti dopo 70-80 anni l'avevano ceduto a un gallerista di Milano dal quale noi l'avevamo poi acquistato con il controllo del nucleo dei carabinieri come facciamo sempre prima di acquistare il nucleo dei carabinieri di Ancona i quali avevano dato il benestare all'acquisto non c'era nessuna denuncia successivamente noi ci siamo accorti durante il restauro dopo tre anni in Olanda, a Mastri, perché era destinato a un castello nel Belgio ci siamo accorti che era marmo di Candoglia Candoglia è una cava vicina a Milano esclusiva del Duomo di Milano questa cava quindi essendo di marmo di Candoglia non poteva che essere del Duomo al che noi siamo andati direttamente al Duomo a dire abbiamo questo oggetto che stiamo pulendo e che risulta essere il marmo di Candoglia avete notizie? Immediatamente scatta l'allarme quindi la dichiarazione di furto che ha messo in moto tutto il processo fino al mese scorso quando le cose sono state due mesi fa sono state chiarite da loro stessi dall'interno del Duomo e soprattutto dalla sovrintendenza le belle arti di Milano nelle quali la direttrice ha ammesso che non c'era nessuna colpa da parte nostra ma bensì era stato un errore loro a dichiarare il furto di una cosa che non era stata riconosciuta come tale quindi si era tutti in buona fede si è tutti regolari e quindi la faccenda si è conclusa in questo modo però la pubblicità negativa è rimasta nell'aria il dubbio rimane sempre nell'aria questa è la storia del nostro paese da domani giovedì 5 settembre a partire dalle 9.30 si apriranno le iscrizioni ai 98 corsi previsti dell'Università dell'Età Libera pronta al suo 35esimo anno accademico ci si potrà iscrivere ai corsi esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma e-commerce all'interno del sito uniliberapesaro.it resterà comunque aperta anche la segreteria dell'Università per agevolare le procedure di iscrizione e il mese di settembre come ben sapete porta nuovi programmi su Rossini TV oggi vi vogliamo presentare il format che prenderà in via proprio il 10 di questo mese dal titolo Cultura Territorio Impresa Pesaro capitale italiana della cultura d'impresa parte da questa iniziativa della Compagnia delle Opere che mira a valorizzare la cultura imprenditoriale del territorio della nostra provincia l'idea di realizzare su Rossini TV il programma televisivo Cultura Territorio Impresa una serie di 14 puntate che dal 10 settembre racconterà l'imprenditoria di Pesaro Urbino attraverso le interviste di Compagnia delle Opere ed alcuni imprenditori della territorio questo programma è nato senza averlo neanche pensato perché l'idea originale era quella di creare un video promozionale per Pesaro capitale della cultura d'impresa era un omaggio che Compagnia delle Opere insieme alla Camera di Commercio delle Marche voleva rendere all'imprenditoria locale però come tutte le cose quando poi vedi che hai un grande valore davanti tentative in voglia di condividerlo perché effettivamente queste puntate che andranno in onda su Rossini TV sono estrapolate da un giro di interviste che è stata fatta per la realizzazione di un video che ovviamente comprimeva moltissimo quello che era il contenuto della proposta e invece qui vedremmo la versione integrale e quindi potremmo godere delle storie degli imprenditori del territorio L'impresa sarà vista con un altro volto sarà raccontata con uno sguardo emozionante di chi vive il territorio all'insegna della cultura ma soprattutto della provincia Abbiamo girato queste puntate nel periodo di maggio nel periodo più bello del territorio anche dal punto di vista naturalistico e vedere come quell'insediamento industriale fatto in un determinato punto da lavorare della gente in quel territorio che può coltivare i suoi campi può anche tenere il bello dell'entroterra è stato per me veramente guardare senza lasciare tutto per scontato perché a volte noi guardiamo le cose e le diamo per scontate invece per esempio vedo anche adesso la politica che si sta molto impegnando per riaccendere l'attenzione sui borghi italiani perché i borghi italiani se non c'è l'economia se non ci sono gli imprenditori rischiano di morire perché la popolazione va via e quindi andare di porta in porta in questo viaggio per tutta la provincia è stato per me proprio anche riprendere consapevolezza del valore assoluto che è poter creare degli insediamenti produttivi ed economici proprio all'interno di tutta la provincia poi Pesaro è un'eccellenza in sé perché come città perché offre tantissime cose e sicuramente anche fare impresa dentro la città è bellissimo è significativo e quindi noi abbiamo cercato di dare tutto il mix e poter offrire a chi guarderà proprio una visione di tutta quella che è la provincia anche perché Pesaro capitale della cultura ha vinto il suo progetto proprio perché si è presentata come sistema provincia e noi quello volevamo valorizzare tutto esaurito per il convegno organizzato per sabato 7 settembre alle 9.30 nella sede di ConfCommercio Marche Nord dal titolo Il potere della parola comunicazione e informazione differenze e influenze sulla società di oggi relatori dell'appuntamento il noto talent scout musicale Claudio Cecchetto gli esponenti di cultura e comunicazione di ConfCommercio Sergio De Luca e Carlo Fontana il presidente dell'ordine giornalisti delle Marche Franco Elisei la copywriter Francesca Busi un tema che sarà affrontato anche da Rossini TV con le testimonianze della sottoscritta e la moderazione del nostro Paolo Pagnini e fervono i preparativi per la terza edizione di Carpegna in Rosa in programma invece sabato 14 settembre a partire dalle 15.30 l'evento organizzato da Carpegna Experience e Andromeda a Montefeltro prevede una camminata di 6 km nella natura di Carpegna volta a sensibilizzare le donne alla corretta e costante prevenzione del tumore al seno dopo i 300 iscritti del primo anno e i 700 del secondo si attende un'altra grande partecipazione ad una manifestazione nel cui incasso di iscrizioni viene devoluto in beneficenza per la realizzazione di macchinari e attrezzature utili alla diagnosi precoce e continuiamo a parlare di eventi appuntamenti perché torna dopo la pausa estiva la rassegna i suoni degli appennini organizzata dal CAI Pesaro Urbino in collaborazione con il conservatorio Rossini domenica 8 settembre si potrà intraprendere una suggestiva escursione sul Monte Catria intermezzata sui prati della chiesetta San Pier Damiani dal concerto del quartetto di clarinetti Chorus che si esibirà attorno a mezzogiorno l'escursione della durata di circa tre ore comincerà alle 10 dalla località Fonte Luca la partecipazione è gratuita ma l'iscrizione è obbligatoria entro la giornata di domani quindi telefonate al numero che vedete in sovrimpressione 329 450 99 42 e si conclude la ricca estate di commedie dialettali all'arena BCC di Fano andiamo a scoprire l'ultimo appuntamento previsto per domani sera si conclude la ricca estate di commedie dialettali all'arena BCC di Tre Ponti di Fano a Calarelsipario giovedì 5 settembre alle 21.15 sarà la compagnia Saranno Fanosi con Non ti pago commedia liberamente tratta dall'omonima pièce di Edoardo De Filippo questa è una storia bella una bella commedia che nasce da Edoardo De Filippo noi l'abbiamo ripresa manipolata ma stricciata come si dice a Fano abbiamo un pochino sconvolto e dovrebbe essere una cosa abbastanza divertente e simpatica siamo 7-8 interpreti tra tutto così abbiamo qui la nuovissima giovanissima l'ultima entrata nella compagnia che noi recitiamo ormai da 6-7 anni siamo sul palco quindi siamo tutti veterani eccetto Agnese che è l'ultima entrata di quest'anno giovanissima 17 anni al suo debutto e sarà una parte simpaticissima la sua un altro grande appuntamento che si terrà domani sera è la decima edizione di Tavuglia in moto a Tavuglia appunto che come di consueto anticipa l'esaltante weekend di motori del Gran Premio di Misano a partire dalle 20.30 saliranno sul palco di piazza Dante Alighieri i principali piloti italiani del moto mondiale assieme ai talenti della VR46 Racing Academy Tavuglia accoglierà dunque il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia ma anche Franco Morbidelli Marco Bezzecchi Celestino Vietti Luca Marini Fabio Di Giannantonio e Andrea Migno e chiudiamo questa nostra edizione del telegiornale parlando di sport perché è stata fissata per martedì 10 settembre alle ore 21 in piazza del Popolo la presentazione della nuova squadra della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che affronterà il campionato di serie A2 2024-2025 VL che oggi attraverso i propri canali social ha ricordato il ventesimo anniversario della scomparsa dell'indimenticato Alfonso Ford anche noi di Rossini TV dedichiamo la chiusura di questo telegiornale alle immagini di uno straordinario cestista e modello di tenacia e dignità nella lotta alla malattia venuto a mancare proprio il 4 settembre 2004 dopo le quattro esaltanti ultime stagioni della sua carriera giocate proprio con la maglia bianco-rossa di Pesaro e siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma tra pochissimo subito dopo questa edizione potrete vedere un approfondimento dedicato alla natura della cultura in collaborazione con Pesaro 2024 le valigie digitali dei ragazzi pesaresi si svelano alla Galleria Rossini e poi invece questa sera in prima serata potrete rivedere le bellissime immagini e ascoltare le interviste delle tante persone e bambini che hanno partecipato alla mezzanotte bianca dei bambini mentre io vi aspetto domani mattina come di consueto puntuali in diretta alle 7.20 ed ora vediamo come sarà il meteo domani vi ricordo sempre il nostro numero per le segnalazioni 370-366-7210 grazie e buona serata grazie a tutti grazie a tutti